buongiorno ragazzi domenica mattina sono le 7 e 23 adesso parto dall'odi faccio milano centrale da milano centrale vado a torino direzione torino cagliari ragazzi direzione destinazione so come dirlo sono appena svegliato quindi capitemi dai pavo dai pavo dai boris vai faiata giorgio poi giorgio grandissimo giorgio segna per noi dai gaston ragazzo che grande vai matte vai vai mister vai Noi! Viene trasformato in evito, il reato contravvenzionale di solo possesso di razzi, bengala, petardi o mazzi e bastoni in prossimità dello stadio. Prevedere! Carole Linetti, con il numero 99, Alessandro, buongiorno! Allora, chiedo a lei un pronostico su questa partita. Dai, sparo 2 a 1, gol di Bellanova. Gol di Bellanova. 2 a 1 però, 1 a 2. No, no, 1 a 2, 1 a 2. 1 a 2, ok. 1 a 2. 2 a 3. 2 a 3. 2 a 3. E poi ci strappati, vedi, dai calzatori strappati, è lui, è lui, è Giorgio, è super Giorgio Altaro E comunque, e comunque, e comunque l'avevi detto, e comunque l'avevi detto, il gol di Bellanova, 1-0, assolutamente Ma infatti, ragazzi, io me lo sentivo, quando le sensazioni io, sì, me lo sentivo di brutto, non una casa, un terzino con pronosti di classe Inchia, ragazzi, tap-in ignorantissimo, da seconda categoria, possiamo dire, di Rauno Ma certo, terza Anche terza, anche terza Bellissimo che questi bambini, mentre c'era la partita, stavano giocando a calcetto Assegnando le ruoli, il 2-0-9, Andrua! 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 Sì! Sì cazzo, sì cazzo! Andra di te Allora, 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 allora Parliamo! Parliamo, parliamo! Adesso possiamo anche commentare più liberamente, senza Messi rompi i coglioni del toro, ok? Siamo poo vici No, no, nel senso Stiamo più vicini al sette rospiti 2 a 1 L'Iniesta di San Gavino Ha segnato l'Iniesta di San Gavino Questo sinistro della madonna Guardalo, guardalo, guardalo Dove cazzo è? Guardalo E questo corner lo riprende Basta Se segnano Se segnano Noi No Che cazzo Porca troia No Forza Cagnari Forza Cagnari Forza Cagnari Forza Cagnari Forza Cagnari Dai cazzo Dai cazzo Guarda, guarda Giorgio 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 come urla Allora Giorgio Giorgio Ma quanto siete belli? Quanto siete belli? Quanto sono belli? Ma quanto è figo Giorgio Quanto siete belli? Dai Dai cazzo Dai Dai Libra Come cm Una M Grazie a tutti